Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, il terzo video dell'anno dei bianconeri, in questo caso l'anno delle bianconeri, parliamo della prima squadra femminile e insomma cominciamo già dal voto 10, 10, 10. Se vi ricordate l'anno scorso diede i voti anche alla fine della stagione dei bianconeri e alle women diede i 9 e mezzo perché persero quella partita che non andava persa in Coppa Italia con la Roma e venimmo buttati fuori dal torneo. Perché 10? Perché 10? Perché il girone di Champions ha cambiato effettivamente tutto, ha cambiato tutto e era una cosa che era veramente 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 impensabile fare, ma andiamo con ordine, andiamo con ordine. Il 2021 è un anno dove vediamo una Juve veramente pazzesca, la Juve femminile è stata fantastica e cominciamo cronologicamente una Juve che vince il campionato da imbattuta e a fine anno fa una roba, una cosa che per molti è sembrata follia pura, ma Bragin ha dimostrato di saperci vedere molto bene. E cioè, e cioè cambiare, cambiare alcune cose. Cambiare il portiere. Adesso io ho avuto molto bene a Laura Giuliani e la reputo un ottimo portiere, ma chi mi segue sa che a Laura Giuliani ho sempre detto che la Juve se voleva fare un salto di qualità doveva cambiare il portiere. Non perché non la reputo capace e tutt'altro, ma la vedo carente in certi fondamentali come il gioco coi piedi e le uscite che spesso ci hanno penalizzato, Coppa Italia compresa, questo è un altro discorso, però soprattutto parlo per me, ma credo che nelle campagne europee i portieri hanno un ruolo davvero fondamentale. Detto questo, torniamo al discorso il cambio, via Guarino. Cosa che io quando ho sentito che la Juve cedeva, Guarino salutava, primo pensiero è stato Guarino andrà in nazionale, perché ho pensato magari è stata Guarino a dire alla Juve e voglio un'altra esperienza. E invece no, non è stato così, anzi è stata proprio la Juve a salutare di Taguarino, tra l'altro con, come posso dire, facendo anche una bella, non dico una festa, però un saluto importante, insomma non una cosa comune nel calcio in generale, nel maschile e nel femminile in Italia per lo meno. E questo ha portato la Juve comunque a cambiare, a cambiare in un momento che nessuno pensava potesse cambiare. La Juve ha aperto il 2021 con la Supercoppa italiana, l'ha chiuso col campione italiano, la prima parte. Quindi abbiamo messo via con Guarino due trofei comunque nella scorsa stagione. E la stagione poi è iniziata presto, perché già a metà agosto ci sono state le prime partite della Champions nuova. C'era curiosità, la batosta al trofeo Gamper è stata pesante, 6 a 0 contro Barcellona, è vero che questo Barcellona credo che sia ingiocabile per chiunque ed è vero che ancora Montemurro faceva molti esperimenti allora. A quello però è seguita un'altra sconfitta, quella in casa col Pomigliano, sempre inamichevole, che ha fatto un po' dire ma come mai, come mai, come mai. Però è che poi Montemurro una volta che ha capito con chi ha a che fare, con che giocatrici, con che stile doveva giocare, per il momento non ce n'è stato più per nessuno. Montemurro ha migliorato il modo di giocare di questa squadra rispetto all'anno scorso, più che altro gli ha dato una dimensione più europea. In campionato 11 partite, 11 vittorie, battendo tutti, soprattutto la cosa che viene spesso sottolotata, battendo tutte in trasferta, in trasferta ragazzi. C'è tolto il Milan, tolto il Milan, che comunque affronterai all'ultima giornata, quindi probabilmente spero già col tricolore in tasca. Tu hai battuto l'Inter, hai battuto la Roma, hai battuto la Sampdoria, hai battuto il Sassuolo, la Fiorentina, tutte fuori casa. Quindi vuol dire che le tue partite fuori casa, sempre con rispetto parlando, saranno probabilmente con squadre nettamente la tua portata, quindi Napoli, quindi Empoli, quindi è la Sverona. Ripeto, rispetto, ma questi otto punti di vantaggio, l'anno scorso a gennaio eravamo a tre punti di vantaggio perché Milan fece praticamente i nostri stessi punti perdendo solo lo scontro diretto. Quest'anno abbiamo otto punti di vantaggio, segno che il campionato probabilmente si è equilibrato dal secondo posto in giù, ma la Juve continua ad essere ingiocabile per chiunque. Questa è l'impressione, almeno in Italia. Vediamo in Coppa Italia, dove abbiamo vinto bene il girone, avevamo due squadre di Serie B contro, però abbiamo vinto bene il girone. Siamo stati sfortunati con gli infortuni, col Covid, adesso abbiamo mezza squadra fuori, speriamo di recuperarle per la Supercoppa, ragazzi, perché se no, non so, potrebbe anche perdere quel trofeo perché è andato di fatto. Poi, ripeto, con una squadra che rischia di vincere il campionato, sinceramente non mi strappierei le vesti in caso di sconfitta in Supercoppa, però un po' di dispiacere ce l'avrei. Ma questo poi riguarda il 2022, quindi parliamo più che altro di quello che ci riserva in questo momento il campo. Il campo dice che la Juventus, ripeto, ha fatto 11 su 11 in campionato, ha questo più 8 che probabilmente si porterà avanti, se non aumenterà addirittura, fino alla fine del campionato. Ma quello che ci ha fatto vedere la Juve è che la Juve l'anno scorso con Lione fa due buone partite, soprattutto l'andata fa un'ottima partita, ma perde tutte e due. Due anni fa, giocata col Barcellona, fa due ottime partite, a mio modo di vedere, e le perde tutte e due. Gioca col Broembe il primo anno e non le vince neanche una. Broembe è molto affrontabile, secondo me, un pareggio e una sconfitta. Quest'anno la Juve batte nell'ordine, vediamo se mi ricordo a memoria, Kameni-Kassassa 12-0. Sempolta è in 4-1, vince il torneo preliminare, va a giocare i play-off, batte Vlanzia all'andata e al ritorno. 2-0 là e 1-0 qua, Torino, e siamo ai gironi. Nei gironi chiudiamo il mini girone d'andata con una vittoria 3-0 contro Servette a Ginevra. Sconfitta in casa 2-1 col Chelsea, pareggio 2-2 al 94esimo col Vosburg. Insomma, hai vinto solo in trasferta col Servette, le due in casa non le hai vinte. Questo vuol dire una cosa sola, sei praticamente fuori. Invece no, le ragazze fanno qualcosa di clamoroso, vincono a Vosburg e pareggiano a Londra col Chelsea, vice campione d'Europa. E questo pareggio è la mazzata sui denti al Chelsea. Chelsea poi perde col Vosburg, noi vinciamo 4-0 a Torino contro Servette allo Stadium. Ero là, tanto per... E noi passiamo ai quarti di finale, purtroppo da seconda perché Vosburg ha voluto esagerare, però te la sei arrivato a giocarti addirittura al primo posto, il Chelsea saluta la Champions e tu affronterai Lione. Ti sei regalato i quarti di finale. La miglior prestazione della Champions League per una squadra italiana è la semifinale del Bardolino Verona. La seconda miglior prestazione è quella col Brescia che è arrivato ai quarti di finale. La Juve ha eguagliato quel Brescia. Ma sia Brescia che Bardolino Verona stiamo parlando di pre-istoria. Pre-istoria non del calcio femminile italiano ma del calcio femminile mondiale. Un formato molto diverso, un formato dove ai quarti di finale ci arrivavi con quattro partite. Io penso all'anno scorso alla Fiorentina che noi abbiamo beccato Lione, loro hanno beccato lo Slavia-Praga, hanno superato lo Slavia-Praga, sono arrivati ai ottavi di finale. Invece se beccare, che ne so io, il Manchester City avessero beccato il Kharkiv, la Fiorentina probabilmente andava ai quarti. Capite da soli che con poche partite sei ai quarti. La Juve arrivare ai quarti adesso è sicuramente come più che arrivare in finale 4-5 anni fa. Perché la Juve ha dovuto veramente giocare una catervata di partite. Quindi complimenti a Montemuro, complimenti alle ragazze. Io veramente meno di 10 mi sento veramente che non posso non darla. E attenzione, la ciliegina sulla torta è che dopo la partita col Wolfsburg, anzi dopo la partita col Chelsea, quando dopo quel pareggio col Chelsea noi ci siamo messi, abbiamo avuto la vera probabilità di passare il girone, perché noi dopo lo 0-0 col Chelsea ci siamo messi il destino nelle nostre mani e l'ultima partita era in casa col Servetta. Non proprio un avversario difficile o complicato. Ecco, quello ci ha portato un attimo a far capire alla dirigenza, a far venire la bocca buona. È arrivata Giulia Grosso, uno dei più forti talenti mondiali, la Juve, secondo me. Ora è ufficialmente una big del calcio europeo. È una super big? No. No. Ma può diventare. Grandi ragazzi, grandi braghini, lavoro eccezionale. Con Peromagnin ci siamo messi in casa uno dei migliori portieri del mondo, se non il portiere migliore del mondo. abbiamo una rosa veramente valida. Ripeto, sarà un peccato se dovessero essere tutte positive per la Supercoppa, però l'importante è che stiano bene e poi ci rivediamo per l'anno prossimo. Insomma, complimenti alle Juventus Women, anno strepitoso, ma attenzione, bisogna sempre dire la frase magica, perché è il segreto di ogni successo. Non finisce qui. Bisogna crescere ancora. Fino alla fine forza Juventus Women 10. La stagione è quasi perfetta, peccato solo per la partita al Tre Fontane contro la Roma, ma ci sta una partita ogni tanto. Purtroppo la perde chiunque. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.